Migliorare le attrezzature della squadra dei Leoni Sicani che partecipa al campionato nazionale di serie A2 di hockey su carrozzina elettrica. E' questo il nuovo obiettivo della società. Giuseppe Sanfilippo avete deciso di farlo con un'iniziativa particolare? Sì, abbiamo deciso di farlo con un'iniziativa promossa da Fondazione Vodafone, un progetto che ci ha approvato la fondazione, una raccolta di crowdfunding dove dobbiamo raccogliere entro il 9 marzo 6.500 euro. Ad oggi siamo a 3.500 euro raccolti grazie al sossegno di aziende liberi e cittadini che ci hanno voluto sostenere, però purtroppo in due settimane dobbiamo ancora raccogliere 3.000 euro. Quindi il nostro appello è lanciato a tutte le persone che vogliono contribuire, la raccolta serve appunto a comprare una carrozzina, a destinarla ai ragazzi, ai nuovi ragazzi che si sono avvicinati a questo sport e che hanno la voglia e l'entusiasmo di iniziare a praticare il wheelchair hockey. Voi praticate questo sport già da anni, però è necessario, come sottolineava anche Giuseppe, avere un minimo di disponibilità economica per riuscire ad avere le attrezzature necessarie e magari c'è anche chi vuole avvicinarsi a questo sport e non ha la possibilità. E' a loro che è rivolta l'iniziativa. Beh sì, chiaramente sì, ovviamente abbiamo bisogno di fondi per acquistare attrezzature, mazze, palline, carrozzine che ovviamente hanno un costo abbastanza elevato. Invitiamo la gente ad aiutare. Sì, sì, infatti invitiamo la gente a sostenerci, mancano due settimane questa raccolta e speriamo di riuscire a raggiungere l'obiettivo. Voi negli anni siete riusciti dal nulla a creare un grande entusiasmo attorno alla squadra e soprattutto ad avvicinare a voi diversamente abili che però hanno avuto un'occasione importante nello sport. Sì, infatti. Io sono una dimostrazione da due anni che sono qua in questa squadra e quindi quest'anno sono entrati anche altri ragazzi e c'è bisogno di carrozzine perché non ce ne sono a sufficienza. Quindi vogliamo tutti fare un versamento, qualcosa per aiutarci. Bene, grazie. La possibilità è attraverso il conto corrente. L'Iban è quello che vedete in sovraimpressione. Giuseppe, cosa si può aggiungere? Si può aggiungere che la donazione può essere fatta in due modi, come hai detto tu, giustamente tramite bonifico bancario sul nostro conto corrente oppure tramite direttamente donazione online sul sito ogni sportoltre.it. Basta andare nella sezione raccolta e fondi e cercare il nostro progetto Ruggirci con noi. Invitiamo tutti a Ruggirci con noi perché oggi dare una possibilità, darci la possibilità di acquistare una carrozzina e dare la possibilità a un altro ragazzo che si avvicina a questo sport e che ha una malattia genetica, rara, neuromuscolare, perché poi questo sport si rivolge a questi atleti, di fare sport, di fare integrazione, di uscire da casa, di andare a fare una trasferta in tutta Italia e di prendersi veramente delle grandi soddisfazioni. Quindi mi raccomando, Ruggite con noi. Grazie.